buon pomeriggio allora pollicione se volete iscrivervi ringrazio attivate la campanina per ricevere gli avvisi e chi vuole condividere i miei video sacca sempre la mia gratitudine ho aspettato verso le 3 per avere più conferme possibili le lavorazioni sono partite intorno alla 1 e stanno procedendo sembra a buon passo visto che mi ha segnalato gente che l'ha ricevuta anche in anticipo rispetto al solito faccio notare lo so che è una cosa brutta da dire che hanno meno lavorazioni da fare non è non sto facendo dell'ironia dopo le bastonate che stanno tirando da maggio a giugno su chi ha fatto domanda e chi sta ricevendo i controlli ci sono meno percettori di eredici su cui fare le lavorazioni è brutto dirlo ma è così e questa cosa andrà avanti andrà avanti perché è il nuovo sistema molti di voi infatti si trovano in una situazione drammatica non perché hanno sbagliato qualcosa ma perché ci sono degli errori di trasmissione dati ci sono delle problematiche effettive di interfaccia di comunicazione ci sono ritardi negli aggiornamenti e fa e ha fatto bene mi sembra bri a ricordare se avete qualche dubbio in merito i vostri carichi pendenti andatevi a verificare il vostro casellaio giudiziale non date per scontato non sono sicuro perché quel sono sicuro vuol dire niente dal punto di vista legale bisogna avere le carte in mano sempre oppure non aver comunicato variazioni cambi di indirizzo o altro guardate sembrano stupidaggini ma quando poi l'inps va a fare un controllo e vede che voi questa comunicazione non l'avete fatta arrivano sti casini quando va a fare un controllo e magari gli danno un'informazione sbagliata arrivano sti casini e guardate che sono tanti quelli che si trovano ora nella situazione di avere la domanda respinta anche se magari non hanno fatto niente a questi si aggiungono i famosi dimissionari mai dimissionati cioè gente che è stata registrata come gente che ha dato le dimissioni quando invece è stata licenziata perché magari diciamo il datore di lavoro ha avuto un comportamento un po equivoco la vostra prima linea di difesa è avere carte e documenti in mano prima che succedano le cose quante volte vi ho detto andate e non solo io anche il nostro bravissimo fabrizio collaboratore storico del canale quante volte vi ha scritto andate a procurarvi il certificato di residenza andate a procurarvi lo stato di famiglia e io vi ho detto controllate il vostro casellaio giudiziaio controllate che tutto quello che avete scritto su quel cacchio di domanda dell'rdc corrisponde esattamente a quello che ha il comune corrisponde esattamente alle informazioni che ha l'inps controllate molti di voi ad esempio hanno il profilo personale sul sito dell'inps perché prendono l'rdc avete un vostro profilo personale e su quel profilo non ci avete messo uno straccio di dato né numero di telefono né numero di cellulare né mail né pec se avete la pec non avete fatto le modifiche dell'indirizzo i dati risultano diversi da quelli che ha che risultano i comuni anche da lì saltano fuori degli errori adesso vi spiego la questione dei 200 euro che non ci sono ovvio io l'ho sperato ma per un motivo e sono stato anche abbastanza chiaro nel video spero che questi controlli siano già stati fatti e abbiano già dato mandato all'inps di dire a posto italiano di pagare evidentemente sono ancora in corso si faranno dopo qui non sono controlli come ha fatto giustamente notare fabrizio come ha detto giustamente il mio tesoro elena come ha detto i ragazzi di radio uc come ha detto alessandro come ha detto davide come ha detto radio barba come ha detto mondo pensioni come ha detto reddito cittadinanza tv come ha detto una fila di gente questi controlli non li fa l'inps li fa il ministero del lavoro al ministero delle finanze questi controlli non servono a fare un calcolo ma dire semplicemente all'inps questa persona deve ricevere il bono sulla carta rdc pdc o questa persona non deve ricevere il bonus perché l'ha già ricevuto o perché scusatemi deve fare domanda per riceverlo perché ci sono anche quei casi persone che devono fare domanda per ricevere bonus una volta che hanno effettuato questi controlli danno comunicazione all'inps l'inps semplicemente fa da tramite dice a posti italiane c'è da pagare questa cifra in più secondo la comunicazione in questa cifra in più verrà pagata entro la fine del mese oggi è il 27 la fine del mese il 31 che è una domenica quindi diciamo entro il 30 quindi da domani a sabato controllate se vedete apparire 200 euro in più sulla carta però sono stati tutti abbastanza chiari questi controlli non riguardano un calcolo l'inps deve fare nessun calcolo deve solo sapere se dire a posti italiani paga 200 euro in più di bonus o non pagare 200 euro in più di bonus tutto lì e questi controlli sono fatti a monte su una platea tra l'altro che non è enorme perché se togliamo tutti quelli che lo prendono già nella pensione che sia di invalidità non invalidità o altro tutti quelli che devono fare domanda per poter accedere al bonus tutti quelli che lo prendono sullo stipendio sulla busta paga e ricordatevi che il 46 per cento dei percentori di rdc lavora e guadagna una cifra talmente bassa che non ci arriva e deve integrarla con la rdc quindi la platea da controllare non è enorme una volta che ha dato il mandato provvederanno a fare ricaricare i 200 euro se vi spettano se ritenete chiamo che passino diversi giorni se ritenete che questi soldi vi spettino ma l'inps non ve li ha caricati per un qualsiasi voglia motivo prendete appuntamento con uno sportello in e ribadisco sempre andare di persona e andate a chiedere spiegazioni ve lo dico perché io partirò il 29 o il 29 sera o il 30 pomeriggio e per un 7 10 giorni anche se verranno caricati dei video che sono comunque video di storia mi raccomando due sulla rivoluzione francese perché forse è meglio che cominciate entrare in quell'ottica lì perché i francesi la bastiglia l'hanno assaltata non sono andati sotto a dirgli cattivoni cattivoni rispondere a già quando può lo sapete io ho bisogno di riposare un po il mio motore funziona male lo sapete la soluzione ideale come mi ha detto sarebbe sostituirlo con uno nuovo ma è impossibile io non rientro in quelle categorie perché uno non è così scassato cioè si può riparare mettono pezzi nuovi lo si può riparare secondo diciamo quei miei problemi di compressione che va su e giù come una trattola non garantiscono una buona sicurezza per un motore nuovo quindi ho bisogno effettivamente di riposare di staccare un po quindi mi avviso adesso per me ne parlerò prima di partire continueranno essere che si saranno tutti i video di storia di cinema quello che volete se volete fate pure le domande lì sotto ma vi avviso risponde jack jack ve l'ho già detto ve l'ha scritto non risponde a domande a cui ho già risposto io nei video non prendetevela ma perché così stanno facendo tutti tutti è a partire da mister lui che la punta di lancia in questo settore dell'informazione nella difesa nella tutela delle persone più in difficoltà fino all'ultimo di questi dei nostri canali stia facendo tutti così basta scusatemi rispondere al per cento volte la stessa domanda quando nella domanda si è risposto nel video bene scusatemi la tiritera adesso unica cosa che potete fare controllare innanzitutto se avete la vostra ricarica e poi e poi aspettare che compaia se vi spetta il bono del 200 euro se pensate che vi spetti e non lo vedete comparire entro la prossima settimana di conto 4 5 agosto prendete appuntamento con uno sportello ips e cercate di sapere perché io vi saluto vi ringrazio scusate la lunghezza ma era necessario ciao a tutti